Regolare tutto stavolta Caravelli-Cattaneo Caravelli-Cattaneo-Pennella Caravelli-Pennella-Cattaneo Caravelli-Pennella-Cattaneo Va a vincere Caravelli E fa 13.02 Ottimo tempo Per questa gara 13.02 vedremo se ha rotolato Ah ha rotolato per un difetto Quindi una continuità di rendimento Non c'è stata la punta dell'anno passato Pennella si è un po' invastita Nel tratto finale Di una buona gara Arriva il risultato della prima 13.01 05